Oggi siamo su Clash Royale a spacchettare un baule, cioè un chest opening piccolo piccolo, e aprirò solo un baule magico. Nel secondo account altre due battaglie otterrò il baule magico. Allora, 114 carte comuni, 3 epiche, 22 rare. Va bene. Tanto io tutte le leggendarie vorrei fare Gran Cavaliere a livello 2. Quante ce ne sono? Non mi ricordo più. 114 carte comuni, 3 epiche, 22 rare. Andiamo. Allora, 1100 oro, che va bene. Allora, 2 capanne di barbari, 17 barbari scelti, allora 23 cam di goblin, allora 6 domatori, va bene. Mi servono i domatori, però non riuscirò a trovare l'agendaria. E infatti tutte le comuni, adesso tutte le aree, almeno spero, la epica, spero, come si dice, non mi ricordo neanche, sì, cioè era del boia, era del boia che speravo, passiamo un po' con il nome, era del boia che speravo, ragazzi, ok, non l'avevamo trovato così tanto, vabbè, tanto va bene per me. E direi di finire il video, tanto ho scioppato un baule perché vorrei potenziare il tomatone. Mi mancano ancora carte. Scusate per la voce se state sentendo male perché chiamano freddori, e direi di incontrarci in un altro video, di flash of hell o flash of friends, devo ancora fare il video, vabbè, aspetta, aspettate che vi faccio vedere il mio villaggio. Allora, ragazzi, questo qua è il mio nuovo villaggio, non è nuovo, cioè questo account l'avevo perso, non sapevo la password, e grazie a una cosa, grazie che ho letto così tanto per scoprire la password, e sono riuscito a ritrovare il mio account di flash of hell, adesso vi farò vedere questo il mio nuovo villaggio, cioè ce l'avevo tanto tempo però l'ho modificato, e niente, poi vi porterò dei video su flash of hell e questo qua è la mia base del costruttore, che lo sto ancora migliorando, cioè ho ancora comprato il multimortaio, devo ancora sistemare un po' di cose, devo migliorare questo, migliorare questo, anche questo, anche questo, cioè tutte le cose che ho appena fatto a base del costruttore a livello 5, perché avevo perso l'account come vi ho detto prima, e adesso ho ritrovato, e è per questo che sono così dietro a base del costruttore, vabbè ragazzi, niente, il video è fino a qua, ci vediamo nel prossimo video, ciao! Grazie! Grazie!